Quindi dovrei conoscerti un po' meglio, giusto? È passato tanto tempo. Aspetta. Ho qualcosa per te. Ti dovevo un'auto, no? È perfetta. Ma questa non la puoi guidare. Comunque, vederti al volante è stato il regalo migliore che potessi farmi. Avevo pensato di regalarti un libro di poesie, però vedo che non è il tuo genere. Cosa fai? No! Non voglio che Anna mi cave gli occhi. Non mi era mai successo con Anna, né con le altre. È la prima volta che non riesco a controllarmi. Mario mi sta aspettando. Che diavolo vuole da te adesso? So solo che sorride quando mi vede. Ci camminerai per sempre, ma non è la mano con un sorriso? Finché ci farà male la faccia. Quel ragazzo non ha sangue nelle vene. Non può darti quello di cui hai bisogno. E di cosa ho bisogno? Non hai bisogno di baci. Hai bisogno di una passione travolgente. Hai bisogno di sorchi profondi che ti facciano rabbrivedire. Sussurri che ti portino vertigini. Non hai bisogno di godere, ma di arrivare allo stordimento. Non abbiamo visto niente. Allora, è stato sufficientemente poetico. Bene, abbiamo una macchina per le corse. e l'ho aggiunto 20 cavalli all'auto di Jenna. Te la presto quando vuoi, amico. Ehi, bello, sei impazzito. Non è la tua sorellastra? E allora? Non è un incesto. Tra la lezione che hanno avuto ieri sera e quella che gli hai dato tu, non gli resteranno forze per combattere.